... Ho bisogno di parlarti. Pensi di essere nelle condizioni di rifiutare un lavoro? Tu sei veramente una migliacca. Tu vuoi soltanto umiliarmi? Vedi, Ferdinando, io avrei bisogno di un giardiniere, un muratore idraulico. Insomma, ho dovuto fare che mi cuore il giardino e la piscina. Accetto. Bellissimo. Bellissimo. Stele, планский. Se tieni troppo la corda Se tiro troppo la corda cosa? Che fai lì in palato? Cammina Brutta Non mi lasci stare Se potessi lo strozzerei con le mie mani Basta Posso fare qualcosa per te? Sì, vai faccio girare la macchina degli ospiti Fardinando? Lo sapevi che il tango non va più di moda?